buongiorno sono franco il tuo operatore mi hai detto ti chiami nicola giusto ok lascia tutto quanto che fa lui ti ha spiegato quello che andiamo a fare adesso ci andiamo a buttare un attimo dalla sopra vediamo se le nuvole se ci possiamo mettere sopra le nuvole e saltare dai vabbè da parte tutta ti ha spiegato tutto quanto adesso andremo su se ti pomo oggi il tandem cos'è una decisione un regalo un autoregalo del mio quarantesimo ah vedi quarantesimo a 4000 perfetto bravo ottimo vediamo dove stanno moglie e figlio eccoli qua ciao e quindi abbiamo l'amico valerio che ci segue grande ci vediamo dopo va bene allora benvenuto al campo volo direttore miglia e ci vediamo dopo in aereo ciao ok sei a porto ciao 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 Eeeh, passaggio che c'è! Salire con la gente! Ha passato! Eeeh, passaggio che c'è! Grazie! Ah, amore, vieni! Grazie! 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 Grazie!